Buonasera, ben trovati. Allora tra poco il telegiornale si aprirà inevitabilmente sulla questione interna del PD perché tra poche ore, domani alle 14.30 per la precisione, andrà in scena la direzione del PD presieduta naturalmente dal segretario Renzi, durante la quale Renzi, così come annunciato molto probabilmente annuncerà le proprie dimissioni. Insomma si scopriranno le carte e quello che accadrà domani non riguarderà evidentemente soltanto il PD, ma anche tutta la vita politica del Paese perché gli scenari che si potrebbero aprire sono diversi, anche se ancora non esattamente chiari. Il piano di Renzi, quello che ha annunciato nei giorni scorsi e che da indiscrezione di stampa sembra prendere piede, è quello appunto di presentare le dimissioni, dunque di fare un congresso anticipato che poi, dopo la conta dei voti dei cosiddetti renziani, possa portare ad elezioni anticipate. C'è però un ma importante perché questo scenario non piace affatto alla minoranza del PD che non vuole assolutamente anticipare le elezioni e chiede invece che ci sia non solo una direzione ma soprattutto un congresso che sia sede di discussione vera, profonda sulla questione elettorale, sulla questione del voto e sulla legge elettorale. Naturalmente questo appunto potrebbe comportare un'eventuale scissione e le parole che sono arrivate proprio oggi da una riunione della sinistra del PD che si è ritrovata a Firenze, insomma in qualche modo farebbero pensare a una possibile scissione. Boccia è stato molto chiaro, non vogliamo un congresso che sia soltanto una conta dei voti, così come Rossi, peraltro uno dei potenziali candidati alla segreteria del PD, il governatore della Toscana, ha detto vogliamo assolutamente una discussione serena sulle questioni elettorali. Dunque domani siamo arrivati al dunque, domani vedremo che cosa succederà. Naturalmente questo potrebbe comportare una fine anticipata del governo Gentiloni per un'idea che sarebbe quella di Renzi di avere un governo più forte, di più lunga durata, che possa presentarsi anche allo scontro con Bruxelles in maniera più forte, e quindi possa portare avanti una manovra anche più significativa, una manovra correttiva. Domani tra l'altro vi ricordo che da Bruxelles arriveranno le previsioni di primavera sui conti economici dell'Europa e quindi anche del nostro paese. Dall'altra parte il centro-destra è una situazione ugualmente complessa perché oggi si è ingaggiato una sorta di braccio di ferro a distanza tra i due potenziali, anche se ormai verrebbe da dire ex possibili alleati, Salvini e Berlusconi, che sembrano non essere d'accordo davvero quasi su nulla, né sulle primarie del centro-destra, dunque sulla leadership del centro-destra, né sull'idea delle elezioni anticipate, che Salvini vorrebbe e Berlusconi no, né sul tipo di legge elettorale con il quale andare a votare, e dunque neanche sulla possibile alleanza. Poi ci sono i 5 Stelle, naturalmente, che caso Berdini a parte, che probabilmente verrà risolto domani, sono concentrati, per quanto riguarda la giunta di Roma, ma sulla costruzione possibile dello stadio della Roma nella capitale. Vi dico questo perché oggi sulla questione è intervenuto anche il vicepresidente della Camera, Di Maio, ed è evidente che non si tratti soltanto una cosa che impatta sulla politica della capitale. Poi dall'estero, notizie importanti, innanzitutto una. In Germania, per tutto il pomeriggio, si è temuto possibile nuovo attacco terroristico. È stato chiuso l'aeroporto di Hamburgo, è stato diffuso attraverso l'area condizionata uno spray urticante, insomma il risultato è che 68 persone sono state intossicate, 9 sono finite in ospedale. Non si è trattato di un attacco terroristico, ma insomma resta il giallo di come sia possibile, con tutte le misure di sicurezza in atto, una cosa del genere. E poi ancora torneremo sulla questione immigrati. Trump risponde alle accuse ancora una volta con un tweet sul suo ben, mentre la Svizzera, sentirete, va controcorrente sulla questione degli immigrati. E poi se ci sarà tempo sicuramente ci sarà, ricorderemo una leggenda del jazz che si è spenta 76 anni. Alja Roving, storia di tre gremi in tre settori diversi, pop, jazz e rhythm and blues. Vi aspetto tra 30 secondi per i titoli. Grazie a tutti. Nuovo strappo fra Berlusconi e Salvini, per il leader di Forza Italia è da irresponsabile anticipare il voto a giugno, poi chiude ad una possibile leadership nel centro-destra del segretario del Carroccio. Non è più tempo di dinastia, il leader lo decidono gli italiani e non Berlusconi, che vuole fare un inciucio con il PD. Replica a stretto giro, Salvini. La nuova bufera sulla giunta della capitale sembra ormai scontato, l'addio dell'assessore all'urbanistica Berdini dopo la diffusione di un nuovo file audio in cui fa riferimenti personali sulla sindaca Raggi e su un dossier delicato che all'esame del Campidoglio è intervenuto anche Luigi Di Maio. Diremo sì al nuovo stadio, è un nostro impegno annunciato. Fra le misure, allo studio del governo per venire incontro alla richiesta di Bruxelles sulla correzione dei conti pubblici, spunta l'ipotesi di tassare le sale da gioco e le slot machine, un intervento che potrebbe portare almeno un miliardo e mezzo sui 3-4 miliardi indicati dall'Unione Europea. Al-Baghdadi, il capo del sedicente Stato Islamico, avrebbe lasciato l'Iraq e si sarebbe rifugiato a Raqqa in Siria, lo affermano fonti di servizi iracheni. E proprio in Iraq prosegue l'offensiva delle forze governative per la riconquista totale di Mosul, dove l'Isis arretra ma resiste. A guidare i miliziani ci sarebbero comandanti inesperti dopo l'azzeramento dei vertici militari deciso proprio dal Baghdad. Buonasera, allora ben trovati, dunque ci siamo all'ora X e tra poco domani intorno alle 14.30 ci sarà la direzione del PD per decidere su eventuali dimissioni del segretario Renzi. Una situazione naturalmente complessa perché potrebbe portare come conseguenza, oltre all'anticipo del congresso e dunque a possibili elezioni anticipate, la fine prima del tempo del governo Gentiloni. Questo, secondo le indiscrezioni, in quello che dovrebbe essere il retropensiero di Matteo Renzi per dotare l'Italia di un governo più forte e a maggiore durata, che possa affrontare anche degli incarichi e degli appuntamenti istituzionali, primo fra tutti quello nello scontro, l'incontro-scontro con Bruxelles e con l'Europa in maniera più forte. Questo naturalmente però non trova d'accordo la minoranza del PD e dunque ci potrebbe essere l'ipotesi di una scissione. Sinistra, peraltro, del PD che si è ritrovata oggi a Firenze e che proprio da lì ha lanciato messaggi molto chiari al segretario. Basta con il logoramento si è superato il livello di guardia. Domani il segretario dirà in modo chiaro la prospettiva per il partito e il paese. Una nota del vice segretario Guerini da voce al non ci sto di Renzi è carica di aspettative e anche di tensione la direzione del PD, convocata per domani alle 14.30. Le voci degli ultimi giorni forti, anche oggi vigilia, ribadiscono che il segretario è pronto alle dimissioni. Strada statutaria per poter anticipare il congresso che alla lettera dei regolamenti significa eleggere l'Assemblea nazionale attraverso la partita locale, della base, dei circoli e il leader attraverso le primarie. L'ultima volta il congresso si aprì il 3 giugno e si chiuse l'8 dicembre con le primarie, ricorda Cuperlo, che quel giorno fu sconfitto. Il memento non è casuale. Le minoranze temono che Renzi punti a fare un blitz, congresso lampo prima delle amministrative magari e che non abbia rinunciato del tutto all'idea di far terminare prima la legislatura. In realtà dal fronte renziano arrivano segnali discordanti, ma nell'insieme prevale l'idea che l'ex premier abbia accettato l'idea che votare a giugno sia molto molto difficile. Tra raccolte di firme e dichiarazioni sparse, oggi anche prodi, il partito del 2018 sembra consolidarsi. Le dimissioni e l'accelerazione sul congresso sarebbero perciò la reazione di Renzi, un modo per non farsi elogorare appunto e ristabilire attraverso una contesa aperta i rapporti di forza, giocando sul fatto che gli avversari, una vera alternativa, non ce l'hanno. Allora, quindi ha ceduto, ma è sicuro che ha ceduto e si dimette, perché può darsi che stanotte cambia idea, come gli capita spesso. E' chiaro che era inevitabile dimettersi da segretario. Mi auguro che si possa fare un congresso normale, non con il rito abbreviato. Emiliano ha dato disponibilità e ha partecipato all'iniziativa delle minoranze a Firenze, ma il quadro non è ancora chiaro. Le divisioni tra Bersagnani, Cooper, Rodalema che fa un altro gioco, pesano. È su di esse, sulle prudenti, ancora coperte, mosse di Franceschini e Andrea Orlando, che Renzi pensa di giocare la sua partita. C'è il rischio di una scissione se si calpestano le regole che ci siamo dati. Il nostro statuto è la nostra Costituzione. Ci teniamo per mano grazie al nostro statuto. La scissione è una minaccia ancora poco credibile, troppo incerta anche la legge elettorale, ma il fatto che si è evocata la dice lunga sulla fisionomia che potrà assumere la direzione. Che tipo di dimissioni darà a Renzi domani, si chiedevano oggi in tanti. Dimissioni politiche o dimissioni tecniche, solo per fare il congresso. Non sono dettagli, la questione ne contiene un'altra, nominare un segretario di garanzia nell'interregno o lasciare Renzi di missionario. Guarini nel pomeriggio ha escluso con forza l'ipotesi del segretario di garanzia, che significherebbe sfilare, almeno in parte a Renzi, la regia del rapporto con il governo Gentiloni. Il premier domani ci sarà e dovrebbe, salvo sorpresa, intervenire. Per lui è più importante che mai capire al più presto l'orizzonte della legislatura e i toni sul tema delle correzioni dei conti richieste da Bruxelles. Ci sarà anche Paduan, invitato come segnale di distensione dopo gli attacchi di Renzi. Sarà la temperatura su questo tema nella platea che Renzi ha voluto allargare, l'altro dato decisivo di domani. E che tipo di dimissioni lo scopriremo solo vivendo, come diceva uno bravo qualche anno fa. E se vorrete lo scoprirete insieme a noi perché domani vi annuncio ci sarà la diretta del Maratona Mentana alle 14.30, naturalmente sulla 7, per seguire la direzione PD, ovviamente con Enrico Mentana. Dall'altra parte però, dell'altro schieramento, nel centrodestra la situazione è altrettanto fluida e complessa. Perché diciamo che i due, quelli che erano i due potenziali alleati, cioè il leader della Lega Salvini e il leader di Forza Italia Berlusconi, hanno ingaggiato oggi una sorta di braccio di ferro, di lite a distanza. Tirando fuori posizioni, peraltro già annunciate nelle settimane scorse, ma oggi in maniera molto chiara, che sono molto distanti tra loro e che rendono un'alleanza tra i due realmente molto complicata. Dopo Trump e la Brexit nulla è impossibile, dice Matteo Salvini. E allora via con lo strappo che consuma in diretta tv da Maria Latella su Sky, dove rompe i ponti con ogni potenziale alleato. Prima con Beppe Grillo che cambia idea ogni quarto d'ora, e poi con Silvio Berlusconi che lo aveva appena definito un po' sbruffoncello, bocciandolo come candidato premier, anche perché, sentenza di Strasburgo permettendo, quella candidatura torna ad essere appannaggio dello stesso Cavaliere. Con la Lega d'accordo al 95%, garantisce Berlusconi, tranne che su due punti, le elezioni, votare adesso è dai responsabili, e l'euro, uscirne sarebbe una follia, meglio una doppia moneta. Ma siccome sono proprio quelli i due punti qualificanti del programma di Salvini, oltre alla legge elettorale, proporzionale assoluto, dice Berlusconi, il proporzionale è l'inciucio, risponde Salvini, ecco allora che lo strappo è compiuto. Se non c'è l'accordo sui punti più importanti, tutto il resto, poi chiedetelo a Berlusconi, io non sto a commentare il fatto che mi dia dello sbruffoncello. Il tenere in piedi in due scarpe, un po' col PD, un po' con Salvini, un po' con la Merkel, un po' con Salvini, un po' con l'Europa, un po' con Salvini, non esiste, non si può più fare. E visto che il gran gesto è compiuto, indietro non si torna, Salvini guarda avanti a Palazzo Chigi perché non è più tempo di dinastie, e chi dovrà sfidare Renzi lo diranno gli italiani, e se sceglieranno me, Berlusconi, se ne farà una ragione. Il quadro è completo, da Forza Italia nessuna replica, replicano invece i 5 Stelle con Luigi Di Maio. Noi, dice Di Maio, vogliamo cambiare il paese, e questo non lo fai alleandoti con chi lo ha distrutto. I 5 Stelle hanno una questione aperta, come è noto, quella del caso Berdini e della giunta Raggi a Roma, che probabilmente troverà domani una soluzione, diciamo che sono cadute un giorno dopo l'altro tutte le affermazioni che Berdini aveva fatto, in merito a quella ormai celebre intervista sulla stampa, che inizialmente aveva detto di non sapere fosse un'intervista, e che in realtà poi, proprio grazie alla pubblicazione di frammenti di quell'intervista, è emerso chiaramente che non solo era ben consapevole di parlare con un giornalista, ma soprattutto aveva quasi indotto il giornalista a comunicare delle informazioni private, sulla vita privata della Raggi, in modo che venissero diffuse. Dicevo, caso Berdini, a parte che probabilmente verrà risolto domani, la questione politica è di trovare un sostituto per evitare che la sostituzione di Berdini possa in qualche modo impattare in modo negativo sull'intera giunta, per appunto l'ennesima defezione. Un'aggiunta che in queste ore però, a quanto dice e scrive, la stessa Raggi ha soprattutto una questione in primo piano, cioè quella della costruzione dello stadio della Roma nella capitale, una questione sulla quale è intervenuto oggi anche il vicepresidente della Camera Di Maio. Questa cosa che dice Salvini... Noi fatti, sarà importante vedere io, glielo chiedo solo per capire cosa succede dopo l'elezione. Noi abbiamo sempre detto una cosa, e lo ribadiamo qui, siamo una forza politica che vuole cambiare il Paese, per cambiarlo non ti puoi alleare con quelli che questo Paese l'hanno distrutto. Il vicepresidente della Camera non parla però solo delle alleanze con la lega di elezioni politiche, entra anche nelle spine del Campidoglio. Tre giorni fa Di Battista aveva confermato la volontà di trovare un accordo sulla questione stadio della Roma, oggi arriva a dire l'importanza del tema che nella capitale tiene banco da molto tempo e da prima dell'insediamento della Raggi, anche il vicepresidente della Camera. Noi in campagna elettorale abbiamo detto che lo stadio andava fatto, lo stadio è il nostro obiettivo, ha detto Di Maio, ci sono delle trattative per preservare dei valori del nostro modo di fare politica. L'appuntamento decisivo è fissato per il prossimo 3 marzo, giorno in cui ci sarà la conferenza dei servizi chiamata a esprimere un parere unico sulla struttura, che sia quella la data di rimente lo fa capire chiaramente anche la stessa sindaca, Virginia Raggi, che nel suo domenicale la sindaca Informa pubblicato sul sito del Comune scrive, in questi giorni ci siamo molto concentrati sulla revisione finale del progetto per la realizzazione dello stadio della Roma. L'obiettivo è lavorare con determinazione alla fattibilità nel rispetto delle regole. Prima di allora, nella giunta in Casa 5 Stelle, c'è da risolvere il caso Berdini, dopo le ultime dichiarazioni carpite da un giornalista della stampa rese pubbliche ieri, in cui l'assessore all'urbanistica parla dei rapporti personali tra Salvatore Romeo e la Raggi, chiedendo poi di non diffondere il suo nome come fonte. Un ulteriore colpo a una posizione, quella di Berdini, che sembrava già compromessa nei giorni scorsi. Quattro giorni fa il sindaco di Roma aveva rispinto le dimissioni dell'assessore, con riserva l'impressione che stia cercando in tempi brevi un suo sostituto prima di mettere la parola fine sul rapporto che era cominciato col piede sbagliato. Nei giorni scorsi erano circolati diversi i nomi su possibili nuovi assessori, nessuno sembrava però aver convinto i vertici pentastellati, ma domani nella prevista riunione di maggioranza potrebbe essere presa una decisione definitiva. E non è escluso che il sindaco avocchi temporaneamente a se le deleghe accettando le dimissioni di Berdini. Sul fronte giudiziario si attende invece l'interrogatorio dell'ex capo del personale del Campidoglio, Raffaele Marra, che ha già annunciato di voler parlare e potrebbe essere sentito dai magistrati già il prossimo martedì. Insomma, sentire le dichiarazioni dei vari schieramenti sembra davvero quasi iniziata la campagna elettorale. Però in tutto questo il Governo sta continuando, il Governo Gentiloni sta continuando a lavorare anche perché ci sono delle scadenze importanti. Innanzitutto quella del rapporto con Bruxelles, della manovra correttiva per far quadrare i conti. Ci sono due segnali nell'ultima settimana che in qualche modo aiutano il Governo e quindi tutti noi. Uno è che l'inflazione è salita sfiorando l'1%, quindi manifestando una sorta di vivacità dell'economia, una vivacità insperata per la verità. E dall'altra la produzione industriale che ha fatto un basso significativo nell'ultimo mese e che dunque potrebbe aiutare a far quadrare i conti e dunque a permettere al Governo di fare una manovra correttiva leggermente ridotta. Intanto però domani Bruxelles annuncerà e comunicherà le previsioni di primavera. Deviazione significativa dei conti rispetto ai parametri che però potrebbe essere superata qualora Roma dovesse attuare la manovrina da 3 miliardi e 4 promessa. Cosa conterranno le previsioni economiche di inverno che verranno diffuse domani dalla Commissione europea lo sappiamo già con un buon grado di approssimazione. Ciò che non sappiamo è come si svilupperà la partita fino al 22 febbraio, data in cui dovrebbe essere pubblicato il rapporto sul nostro debito e che in caso di bocciatura potrebbe rappresentare il primo passo verso una procedura di infrazione che Padoan sta cercando in tutti i modi di scongiurare. Del resto lo spread intorno ai 200 punti è lì a ricordarci che la perdita di credibilità derivante da quella procedura unita alle incertezze politiche potrebbe rendere un lontano ricordo quei 47 miliardi e mezzo di minori interessi sul debito accumulati tra il 2013 e il 2016. Il Ministro dell'Economia però si deve muovere sul filo sottile dell'equilibrio in bilico tra le richieste informali giunte dalle colombe della Commissione che spingono per la realizzazione di almeno una parte delle misure annunciate prima del 22 febbraio e le pressioni politiche dei renziani del PD che non vogliono che si metta mano alle accise su carburanti e tabacco misura quest'ultima che varrebbe un miliardo e mezzo da sommare agli 850 milioni di tagli alla spesa e al miliardo da ricavare con le misure di contrasto all'evasione. Il governo potrebbe risolvere la questione ricorrendo ad una tassa secca sulle slot mossa che da un lato lo trarrebbe di impaccio sul fronte della riforma dei giochi rinviata più volte a causa del contrasto con gli enti locali che vorrebbero il divieto dei punti di azzardo in prossimità dei luoghi sensibili misura che varrebbe 3 miliardi e mezzo di mancato gettito in caso di divieto intorno ad un raggio di 500 metri dalle scuole e dall'altro appianerebbe i contrasti nel PD rendendo marginale l'intervento sulle accise fino magari ad annullarlo nel caso i dati Istat sul PIL nei prossimi giorni dovessero certificare una crescita superiore alle attese un più 0,9 1% che potrebbe far risparmiare all'esecutivo 300-500 milioni. Se poi una parte della manovra sarà effettivamente messa in atto immediatamente o se a Bruxelles verrà semplicemente inviata una bozza dettagliata del provvedimento da varare poi ad aprile e soprattutto se questo basterà a salvare l'Italia dalla procedura ce lo diranno solo le prossime settimane. Intanto la Germania è un nuovo capo dello Stato e l'ex ministro degli esteri, Stann Mayer, che è socialdemocratico, la maggioranza lo ha votato, l'Assemblea l'ha votata a maggioranza assoluta, 931 voti su 1.253. Ora quello che va detto è che le funzioni del Presidente in Germania sono per lo più di rappresentanza, però è una carica importante perché si crea e così hanno deciso i patri costituenti come accadde naturalmente durante la Repubblica di Weimar, un sistema presidenzialista che possa in qualche modo minare la democrazia parlamentare. Quindi quello che è importante nella scelta di Stann Mayer è soprattutto un segnale politico che la Germania ha voluto mandare non soltanto all'Europa ma anche al resto del mondo perché Stann Mayer è considerato che intanto era l'anima grigia del governo di Schroeder e poi da sempre un grande mediatore, un simbolo dell'unità e sicuramente non della divisione. Dunque in un momento in cui l'Europa da una parte trabala, dall'altra ci sono attacchi in qualche modo all'Europa da parte del Presidente americano Trump, una figura così unificatrice come quella di Stann Mayer è chiaramente un messaggio antipopulista e antidivisionista. Sempre in Germania, proprio oggi si sono vissute peraltro ore molto di grande paura perché si è tenuto un nuovo attacco terroristico ad Hamburgo. L'aeroporto è stato chiuso per un'ora, bloccati i voli, la gente è stata fatta evacuare perché ci sono stati un numero ingente, 68 persone di intossicati hanno avuto malessere alle vie respiratorie, 9 di loro peraltro sono stati ricoverati in ospedale. Appunto si temeva un attacco terroristico, la polizia, le forze dell'ordine hanno negato che ci sia una matrice di questo genere, però resta il giallo di come sia possibile che sia stato diffuso nel sistema di areazione di un aeroporto così grande e così frequentato un sostanza urticante che ha provocato appunto questi disagi. La polizia, i vigili del fuoco, la sicurezza dell'aeroporto di Hamburgo, tutti si sono subito affrettati a smentire qualsiasi legame con un possibile atto terroristico. Sta di fatto che oggi, nello scalo della seconda città tedesca, 15 milioni di passeggeri in transito ogni anno, ben 68 persone sono state soccorse dai servizi di emergenza e 9 ricoverate in ospedale con sintomi di difficoltà respiratorie e forte irritazione agli occhi. Dopo mezzogiorno una sostanza gassosa sarebbe stata liberata attraverso il sistema di condizionamento dei due terminal. Secondo la stampa tedesca che ha citato fonti anonime della polizia, una confezione di spray al peperoncino, è stata ritrovata in un cestino dei rifiuti di uno dei terminal dell'aeroporto. Un passeggero potrebbe essersi disfatto della bomboletta prima di raggiungere il barco dei controlli di sicurezza. Ma come perché il gas si è penetrato nei condotti dell'aria condizionata è ancora da accertare e le autorità in un primo momento sembravano propendere addirittura per l'ipotesi di uno scherzo. Le conseguenze sono comunque state pesanti e a parte le persone coinvolte direttamente, lo scalo è stato chiuso ed evacuato. Centinaia di passeggeri fatti uscire all'aperto con la temperatura sotto lo zero, 13 voli saltati, due sono stati dirottati su Brema, alcuni aerei sono rimasti in sorvolo su Hamburgo, altri hanno rinviato il decollo. Più di 100 uomini tra vigili del fuoco e polizia hanno perquisito a fondo gli ambienti dell'aeroporto che dopo un'ora è stato riaperto. L'allarme di oggi arriva in un paese ancora scosso per l'assalto terrorista del 19 dicembre scorso quando il tunisino Anis Amri ha investito il mercatino di Natale della chiesa della memoria di Berlino uccidendo 12 persone e ferendone oltre 50. Da allora quasi ogni giorno si susseguono perquisizioni a tappeto e arresti di soggetti ritenuti pericolosi. Vi dicevo in apertura che la questione della gestione dei migranti continua a essere di primissimo piano, non soltanto all'estero, tra poco sentiremo la risposta di Trump alle critiche per il suo Muslim Ban, ma anche in Italia. C'è una notizia importante di cui sicuramente si discuterà e che già sta creando reazioni politiche piuttosto forti e che riguarda appunto l'accoglienza. Il sindaco di Vituliano, lo possiamo vedere, si chiama Raffaele Scarinzi e del Partito Democratico ha emesso un'ordinanza per impedire l'arrivo nella sua cittadina di altri immigrati. Ha deciso proprio di farlo fisicamente perché ha chiuso la strada per impedire l'accesso ad un agriturismo che era una struttura indicata dalla prefettura per l'accoglienza dove sono già ospitati 40 migranti in un piccolo centro appunto vituliano che si trova nel Beneventano e che fa parte del sistema di protezione per i chiedenti asilo. L'ordinanza del sindaco è stata eseguita, dunque è stata fisicamente scaricata una massa di terra sull'unica via di accesso alla struttura ricettiva e il sindaco ha commentato lo Stato rispetto ai patti, nel senso che abbiamo già accolto il numero previsto di migranti, dunque non ne accoglieremo di più. Una situazione analoga a quella che si era verificata nel nord Italia un paio di mesi fa con la popolazione che invece era scesa in strada proprio per bloccare in quel caso l'arrivo anche di un solo singolo migrante. Vi dicevo la questione migranti che riguarda gli Stati Uniti, il presidente americano Trump ha risposto alla sua maniera come sempre con un tweet alle critiche che gli sono piovute a causa degli arresti centinaia che ci sono stati nei giorni scorsi per il suo decreto sull'immigrazione, lo vedete, la stretta sui criminali illegali è soltanto il risultato ha detto Trump, si leggeva poco fa, del rispetto delle promesse alla mia campagna elettorale. Mentre questo che vedete è il suo portavoce, uno dei più stretti collaboratori, consiglieri Donald Trump che è Stephen Miller, l'uomo che è considerato il vero autore di quel decreto sugli immigrati, ha detto che il blocco del bando è un'usurpazione del potere da parte dei giudici, stiamo studiando diverse opzioni per ripristinarlo, sapete il bando è stato bloccato dalla Corte federale americana. In questo clima però c'è un paese che sta in qualche modo, che oggi è andato in qualche modo controcorrente ed è la Svizzera perché ha votato a maggioranza e è passato a un referendum che in qualche modo facilita la nazionalizzazione dei migranti di terza generazione, cioè dei nipoti degli immigrati, a condizioni piuttosto restrittive, si tratta di persone che devono essere nate in Svizzera, che abbiano almeno frequentato per cinque anni la scuola e che abbiano parenti, genitori e nonni che abbiano vissuto perlomeno dieci anni in Svizzera. Ma insomma comunque la si vede è un segnale in controtendenza rispetto all'Europa che invece alza, vuole alzare i muri e vuole chiudersi sui nazionalismi. Naturalizzazione agevolata per gli stranieri, riforma del fisco e fondo per la rete stradale. Questi tre referendum proposti dal Governo federale oggi ai cittadini svizzari ha vinto con il 60,4% il sì alla proposta di rendere più semplice e meno costoso per gli immigrati di terza generazione ottenere la cittadinanza. E anche 17 cantoni su 26 hanno detto sì. Una netta sconfitta per la destra ultranazionalista che con questi manifesti si era opposta all'apertura della sinistra. Le regole in Svizzera per avere il passaporto restano sostanzialmente invariate, ma il processo sarà più semplice e breve. Bisogna che almeno uno dei nonni sia nato in Svizzera o abbia comunque un diritto di dimora. Lo stesso vale per uno dei genitori e rispettare altre condizioni, come avere meno di 25 anni, aver frequentato una scuola svizzera per almeno cinque anni, parlare una delle lingue nazionali e pagare le tasse. I giovani immigrati della terza generazione, componente importante della società, sono almeno 25.000, il 60% di loro è italiano. Il resto è costituito da turchi e cittadini provenienti dai Balcani e non hanno gli stessi diritti e doveri dei cittadini svizzeri. L'argomento è stato a lungo dibattuto in Parlamento per paura che si arrivasse alle naturalizzazioni automatiche, che alla fine sono state categoricamente escluse dal testo. Meno controverso il tema della creazione di un fondo per finanziare le strade nazionali e il traffico nelle città, dove ha vinto il sì con il 61,9%. Infine, la riforma delle imprese, che avrebbe portato a esenzioni fiscali per i nuovi brevetti e le attività di ricerca. L'obiettivo era quello di adeguare il sistema fiscale svizzero agli standard europei. Solo quattro cantoni hanno accettato il testo, che era sostenuto dalle maggiori organizzazioni economiche. Il voto complessivo finale ha detto no al 59%. Una sconfitta che è andata bene al di là di quanto avevano previsto i sondaggi. Un risultato sicuramente legato al malessere che serpeggia nella classe media svizzera, che da anni risente di salari stagnanti e con una perdita del potere d'acquisto. Non a caso la sinistra aveva focalizzato tutta la campagna su questo argomento che ha fatto presa sulla gente. che stanno manifestando proprio per chiedere la sospensione di missioni del governo e elezioni anticipate. Vedremo insomma che cosa succederà. Quindi eventualmente ci sarà un altro appuntamento elettorale, oltre a quelli già noti in Europa che potranno essere importanti per come vanno. E adesso ancora notizie di esteri. Prima di chiudere, perché l'ultima immagine, come sapete, che risale, di cui si ha conoscenza, del sedicente califo al-Baghdadi, risale al 2014 quando all'interno della moschea di Mosul lanciò la GIA dell'idea del califato. Bene, sembrerebbe che, secondo i servizi iracheni, adesso al-Baghdadi abbia invece abbandonato il paese. L'ultima volta che abbiamo sentito parlare di Abu Bakr al-Baghdadi era il 31 dicembre scorso, fine anno. Quel giorno il Pentagono confermò al mondo, a tutti noi, che il capo del sedicente Stato Islamico era ancora libero, in buona salute ed in presunto continuo movimento tra Siria ed Iraq. Probabilmente tra le due roccaforti, quella siriana di Raqqa e quella irachena di Mosul. Ora a dispensare nuove, ulteriori conferme circa lo stato in vita di al-Baghdadi, sono i servizi di sicurezza iracheni che sembra se lo siano tolto di mezzo o meglio, sarebbe stato lo stesso autoproclamato sinneo califo d'Oriente a decidere di lasciare almeno per ora la terra irachena occupata dai suoi tagliagole. La fonte è il generale dei servizi segreti, Abdul Karim Khalaf, definitivamente ripiegato in Siria, dice l'alto ufficiale parlando di al-Baghdadi, sempre e comunque protagonista di una caccia all'uomo che coinvolge da almeno due anni una mezza dozzina di paesi. Una non troppo santa alleanza trasversale che va da Washington a Mosca, passando per Londra e Parigi sulla sua testa, va ricordato, pende poi una taglia da 25 milioni di dollari. Via dall'Iraq per manifesta difficoltà, questo sembra uscire dalle parole di al-Baghdadi riportate dal generale Khalaf. I comandanti sul campo iracheno sarebbero troppo giovani e inesperti, il grande capo sembra abbia tagliato con loro ogni contatto. Con al-Baghdadi avrebbero lasciato l'area di Mosul nei giorni scorsi una decina di suoi fedelissimi. Le tracce più recenti del terrorista ultra-radicale sunnita risalirebbero al 4 febbraio scorso. A Merkadeh, in Siria, avrebbe presenziato infatti un vertice di suoi comandanti. Tra defezioni, tradimenti, offensive di terra e bombardamenti aerei, i tagliagole sarebbero in grave difficoltà. In Iraq, come in Siria, l'offensiva delle forze appoggiate dall'Occidente è sempre più pressante. Il Raqqa, capitale degli islamisti, armati, i siriani potrebbe cadere entro la primavera. Arrivando in Siria, il neo-califo avrebbe azzerato i vertici locali della sua organizzazione, sostituendo i suoi sodali siriani colpevoli anzitutto di corruzione e di eccessivo appoggio alla popolazione civile con miliziani stranieri, egiziani, marocchini ed algerini, in posti chiave dell'organizzazione terrorista, quali la sicurezza, l'intelligence ed il controllo del territorio. Anche se il tempo è tiranno e siamo lunghi, non possiamo non ricordare, prima di salutarvi, Al Jarro, che è morto, una delle leggende del jazz, che è morto oggi a 76 anni. Da qualche giorno era ricoverato in ospedale, ma è sicuramente forse una delle voci più belle del jazz degli ultimi 50 anni. Possiamo vedere le sue foto. Vi dicevo appunto che era ricoverato da qualche giorno in ospedale, ecco abbiamo un video, aveva annullato tutti i suoi concerti in programma proprio per ordine dei medici. Aveva vinto 7 Grammy Awards, per farvi capire, in tre unico, in tre differenti generi musicali, jazz, pop e rhythm and blues. Il primo era nel 77 per quel look to the rainbow che lo aveva incoronato come miglior cantante jazz. Era un cantante molto moderno, capace di esplorare davvero tutte, con le voci, tutte le timbriche sui ritmi swing, pop, jazz, rhythm and blues. Era un baritono naturale, come si dice, ed era rinomato proprio per la sua capacità non soltanto di evolvere nella timbrica, ma anche per la sua capacità di saltare da un'ottava all'altra durante le sue esibizioni. Dopo di noi, come sempre, la domenica c'è il faccia a faccia all'intervista di Minoli. Questa sera c'è Giulio Tremonti e Gianni Oliva, che è storico, delle foibe. Noi ci fermiamo qualche istante e poi torniamo per gli aggiornamenti. Allora, prima di riuscire a faccia a faccia, c'è un aggiornamento. Vi dicevo, il sindaco di Vitulano che aveva firmato un'ordinanza per bloccare la strada di accesso alla struttura che ospita migranti per bloccare, per evitare l'arrivo di nuovi migranti, perché era stata già raggiunta la soglia. Bene, è stato trovato un accordo, un'intesa con la prefettura, il sindaco ha rimosso il blocco di terra che fisicamente era stato posto sulla strada, dunque è di nuovo percorribile la strada che conduce all'agriturismo e questo perché si è trovato un accordo appunto sul numero dei migranti da ospitare che è passato da 34 a 12. Adesso il mucchio di terra è accumulato sul ciglio della strada e dunque anche le transene sono state spostate, è stato trovato un'intesa. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio a faccia a faccia di Minoli e vi auguro una buona serata.